Appena è buio avvolgavai via, tutta dritta. Ma manco c'era ieri a venirla, l'ho sventato. Com'è stato? Bello! Anna, la voce dovrà essere molto più forte. Sto diventando piccolissima, sempre di più. Alessandro non si chiama Manzoni di cognome, hanno detto ha scritto i progressi sposit. Permesso? Mi ha aperto, il secondo cerchio non è da meno. In un bel giro conto ci prepariamo a girare il mondo. Io sarò lì in regia, va bene, dove vedete i computer e un po' di luce. Io e Alessandro siamo lì. Sbagliando, è mia l'idea e il variante. E non c'è tutto quanto la mia idea. Dai, è mia l'idea. È la mia idea. Qui siamo un po' emozionati, un po' scossi. E va, 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 va. È l'inizio del spettacolo. Sono ricardo, sono ricardo. La duchessa, la duchessa, la duchessa. Sto facendo aspettare la duchessa. Fermo. È colpa tua se sono qui. È colpa di un barattolo di marmellata. Appiccicosa. È colpa. È colpa. È colpa. Bisogna divertirsi, ma non fare confusione e dire altre cose. Quindi ora si parla dello spettacolo, di quello che avete da fare. Non voglio vedere quelli più grandi. Cellulari, Reels, Instagram, Stories. Everybody needs somebody TikTok. Basta, mi ci sono confondi. Nella confusione e nel caso. Trovo una risposta a tutte le domande. Davvero? No, ma sono bene, vero? Siamo, siamo, siamo. Viva la truna, adesso. Uno, due, tre, via. Due, tre, via. Un buon non compre andam che amè, a te amè. In pianta ho tutti insieme con un altro po' di te. E' un buon non compre andam che amè. 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 Grazie a tutti.